Il calcio si sa è la passione di molti italiani e soprattutto per i foggiani rappresenta un vero e proprio credo. Negli ultimi anni si sono viste sempre più app per i cosiddetti fantasy game, il fantacalcio è l'esempio più lampante, ovvero giochi che si basano su eventi reali come appunto le partite di calcio. Ed è così che un gruppo di amici d'infanzia, cresciuti a pane e pallone, ma che nel frattempo hanno acquisito competenze e professionalità specifiche, hanno fondato una start-up e realizzato un'app per il fantasy game Survivor chiamata proprio Fantasurvivor. Possiamo dire che Fantasurvivor nasce dalla passione di un gruppo di amici per il gioco del calcio. Come tanti appassionati di questo sport, anche noi siamo soliti a organizzare fantasy game come il fantacalcio. Circa un annetto fa siamo venuti a conoscenza di un nuovo gioco che in realtà negli Stati Uniti è molto famoso, in Italia un po' meno, che è chiamato Survivor. Le regole sono molto semplici. Ogni giocatore, prima dell'inizio del turno di campionato, sceglie una squadra. Se questa squadra vince, il giocatore si salva e passa al turno successivo, altrimenti viene eliminato. La nostra app è disponibile gratuitamente sugli store Android e iOS e attualmente supporta il campionato di Serie A, ma stiamo lavorando per poter introdurre i maggiori campionati europei e le leghe minori. Il nostro team è composto da 5 persone dislocate tra Foggia, Milano e Bologna e il nostro obiettivo è quello di fondare una vera e propria startup innovativa.